Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione in primo piano la notizia che sta volando, potremmo letteralmente dire così, su tutti i social che sta generando grande entusiasmo ed è quella dell'apertura anche di EasyJet con la biglietteria, la prenotazione ufficiale dei voli per l'aeroporto Costa d'Amalfi di Salerno verso quattro destinazioni, EasyJet si aggiunge a Volotea che aveva già annunciato e siamo andati a sbirciare proprio tra le tariffe proposte per capire quanto costerà volare da luglio dall'aeroporto Costa d'Amalfi. Il 15 luglio costerà 18 euro partire da Salerno per andare a Milano con il volo venduto da EasyJet 21 per il ritorno secondo una simulazione che abbiamo fatto stamani quando è partita ufficialmente la possibilità di acquistare sul sito di EasyJet dopo una serie di indiscrezioni circolate nei giorni scorsi l'acquisto dei biglietti della compagnia aerea dall'aeroporto Costa d'Amalfi di Salerno con Milano, Basilea, Ginevre e Berlino dal 13 luglio anche Londra Gettwick in un'altra simulazione di volo da Salerno verso Londra il 6 agosto costerà poco più di 40 euro il volo in partenza dal Costa d'Amalfi attraverso ancora un'altra simulazione con partenza da Salerno il 13 luglio verso Berlino il costo del biglietto sarà di 48 euro insomma cifre accessibili ed interessanti che stanno generando entusiasmo e grande attenzione rispetto alla notizia lanciata questa mattina con un comunicato ufficiale da GESAC il primo ad atterrare sarà il volo da Milano Malpensa a seguire il 12 luglio atterreranno i voli da Basilea, Ginevre e Berlino il 13 luglio l'atteso volo da Londra i nuovi collegamenti saranno inizialmente operati durante la stagione estiva con tre frequenze settimanali per la rutta Milano Malpensa-Salerno due per Londra Gettwick, Basilea, Ginevre e Berlino come vi dicevo c'è grande entusiasmo rispetto a questa notizia ad esprimere gioia entusiasmo è stato in primis Roberto Barbieri l'amministratore di GESAC l'amministratore di EasyJet ma sul territorio locale coloro i quali hanno lavorato affinché l'aeroporto di Ponte Cagnano e i voli non fossero più solo un sogno ma diventassero operativi primo fra tutti il presidente della commissione trasporti della regione Campania Luca Cascone plauso ed elogio all'iniziativa anche di Federalberghi con Antonio Ilarghi Volotea, EasyJet, speriamo presto Ryanair, il bando per la biglietteria, il bar, i lavori per la pista quasi conclusi a breve quelli per il nuovo terminal passeggeri e per il collegamento con la metropolitana li elenca tutti Luca Cascone che commenta così le ultime novità che riguardano la ripresa dei voli a partire dall'11 luglio 2024 dall'aeroporto Costa d'Amalfi di Salerno aggiungendo poi una stoccatina a chi continua a criticare queste notizie dividono l'Italia, fa notare Cascone, tra chi lavora per raggiungere i risultati e chi critica pensando sempre che si tratti di annunci farlocchi purtroppo la tormentata e lunga storia del decollo dell'aeroporto di Salerno è costellata di go and stop che in qualche modo hanno nutrito la diffidenza di chi non ci crederà fin quando non vedrà effettivamente volare gli aerei per un periodo di tempo ragionevole in tanti ricorderanno per esempio voli di linea che iniziarono nel 2008 la compagnia vola Salerno, Erdolomiti, un breve passaggio di Alitalia, tante altre piccole compagnie la vera svolta c'è stata nel 2019 quando l'attuale gestore di Capodichino, Gesac inglobò lo scalo salernitano su sollecitazione della regione Campania poi l'avvio dei lavori per l'allungamento della pista oggi è il giorno dell'entusiasmo per l'annuncio dopo volotea anche di Isiget di collegamenti con il Costa d'Amalfi a partire da luglio la notizia è stata accolta con entusiasmo anche da Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno ora non si perda più un giorno, serve un piano di marketing con iniziative istituzionali in tutte le località servite dallo scalo, Federalberghi ha aggiunto Ilardi e pronta a fare la sua parte passiamo ora alla cronaca, ci occupiamo del traffico illecito di rifiuti tra la Campania e la Tunisia un'inchiesta che esplose quando dopo un incendio proprio in Tunisia scattò l'indagine che portò all'arresto dell'allora ministro dell'ambiente della Tunisia da lì l'inchiesta che oggi ha consentito alla procura di potenza di emettere 11 misure cautelari due delle quali riguardano funzionari della regione Campania è emersa con chiarezza la posizione e il ruolo di due funzionari della regione Campania uno agli arresti domiciliari ed un altro indagato nell'ambito dell'inchiesta che con 11 misure cautelari ha chiuso il cerchio attorno alla scoperta di un traffico illecito di rifiuti tra l'Italia e la Tunisia che nel 2020 ha portato il Nord Africa 70 container con 7.891 tonnellate di rifiuti un incendio e poi l'arresto di alcuni esponenti tunisini tra cui il ministro dell'ambiente fecero esplodere l'inchiesta che constrinse la regione Campania a lavorare per la restituzione dei rifiuti attualmente ancora stoccati nell'area militare di Persano ma da oggi ufficialmente dissequestrati si potrà dunque iniziare lo smaltimento di quelle balle ma mentre i rifiuti sono rimasti fermi il lavoro della procura di potenza guidata da Francesco Curcio è andato avanti ed oggi ha portato all'emissione di una serie di misure nei confronti di intermediari, imprenditori, titolari di aziende di trattamento, recupero, società di intermediazione oltre ai due già citati funzionari pubblici della regione Campania i reati ipotizzati sono quelli di traffico illecito di rifiuti fittizia, intermediazione di beni, gestione illecita di rifiuti realizzazione di discarica abusiva, frode nelle pubbliche forniture a carico del funzionario, un altro indagato, le indagini hanno accertato omissioni e condotte ritenute a livello di gravità indiziaria un consapevole contributo nell'illecito traffico di rifiuti fondamentale nell'inchiesta che ha svelato un inquietante scenario di traffico internazionale di rifiuti anche un reportage di un'emittente televisiva tunisina mentre in Campania, in provincia di Salerno, è stato fondamentale il lavoro del giornalista del mattino Pasquale Sorrentino in sostanza il traffico di rifiuti che partiva dal porto di Salerno aveva come esito finale l'incendio dei rifiuti o il loro abbandono e interramento in Africa tutto basato su un contratto firmato nel 2019 a Polla tra una società campana e una tunisina per il trasporto in Africa di 120.000 tonnellate di rifiuti nell'intesa erano coinvolte anche due ditte di intermediazione le indagini dei carabinieri del nucleo operativo ecologico hanno scoperto un complesso sistema attraverso cui è stato organizzato un traffico illecito di rifiuti reso possibile dalla concessione di due autorizzazioni rilasciate da un ufficio di Salerno della regione Campania in relazione ai quali sono appunto indagati due funzionari regionali l'impianto tunisino che ricevette le quasi 8.000 tonnellate di rifiuti fu interessato da un incendio che ne distrusse buona parte ma in base poi ad un accordo di cooperazione tra Tunisia, Regione e Campania i container pieni di rifiuti furono poi ritrasferiti in Italia al porto di Salerno i consulenti che li hanno esaminati hanno accertato la non corrispondenza della qualità dei rifiuti in sequestro al codice di riferimento dichiarato dall'esportatore e continuiamo con la cronaca perché ieri nella serata non è passata inosservata la notevole e massiccia presenza di forze dell'ordine su tutto il territorio che sono state coinvolte in un'operazione interforze di controllo denominata Alto Impatto e questa mattina è stato il questore di Salerno Giancarlo Conticchio a tracciare un bilancio di quanto portato a termine nel corso dell'intervento Due arresti, uno per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti con sequestro di hashish e l'altro per resistenza pubblico ufficiale svariate perquisizioni domiciliari, posti di controllo, pattuglie schierate e sorvolo di un elicottero e il bilancio dell'operazione interforze in modalità Alto Impatto che non è passata inosservata ieri pomeriggio nella città di Salerno in aria e quartieri cittadini a più alto rischio legati a fenomeni di delinquenza in particolar modo nella zona orientale che ha visto in azione polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza le attività di controllo pianificate nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presedute dal prefetto di Salerno Francesco Esposito hanno restituito un segnale di presenza dello Stato sul territorio al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini i risultati conseguiti al di là dei numeri sono soddisfacenti per il questore di Salerno Giancarlo Conticchio che stamani tracciando un consuntivo dell'attività svolta anche con l'ausilio delle unità cinofile ha ribadito che l'intervento ha permesso di effettuare una serie di perquisizioni presso alcuni obiettivi un'operazione eseguita in una fascia oraria insolita rispetto ai blitz effettuati in altre occasioni all'alba che oltre alle due persone arrestate ha portato anche alla denuncia in stato di libertà per un uomo inseguito dalle forze dell'ordine a bordo di un motorino nella zona orientale di Salerno è un'operazione che è stata stabilita in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a seguito delle richieste di maggiore sicurezza da parte dei cittadini ieri sono state impiegate pattuglie dell'arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato i risultati conseguiti sono una soddisfazione perché i cittadini hanno apprezzato questo tipo di attività ci sono stati due arresti, uno per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente con conseguente sequestro di hashish un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e svariate perquisizioni è un segnale che lo Stato dà di compattezza dove Polizia, Carabini e Guardia di Finanza lavorano per la sicurezza dei cittadini sono in programma altre operazioni sempre per dare una maggiore tranquillità ai cittadini di Salerno e della provincia un'attività di controllo che è partita ieri diversamente dalle altre volte di pomeriggio immagino in relazione anche ad attività di informazione di particolari quartieri e zone critiche vi aspettavate il risultato che avete avuto sicuramente per i cittadini è stato un momento di grande sorpresa perché hanno vissuto con voi questi momenti di controllo Sì, sono quelle operazioni che vengono fatte anche in fasce orarie non solite alla Commissione dei Riati perché serve anche monitorare il territorio e vedere quello che accade nel territorio Avete trovato armi? Armi no, ma droga come ho detto prima e alcune persone che poi sono anche sfuggite al controllo c'è stato un inseguimento poi è stata presa questa persona e denunciata in stato di libertà per resistenza Ed intanto proprio dal questore di Salerno e dai rappresentanti istituzionali del Comune Capoluogo parte un appello preciso non sottostate alle richieste dei parcheggiatori abusivi si è chiuso con questo appello un incontro che si è svolto sempre in questura questa mattina con gli assessori comunali e i rappresentanti del Comune di Salerno insieme alle forze dell'ordine per porre freno al fenomeno dei parcheggiatori abusivi Trovare insieme una soluzione al problema dei parcheggiatori abusivi che riguarda diverse zone della città di Salerno anche quelle dei parcheggi automatizzati attenzione rivolta in modo particolare alle zone sensibili di Piazza Mendola Piazza San Francesco Piazza Casalbore l'area del Polo Nautico e dello Stadio Arechi il questore di Salerno Giancarlo Conticchio che in diverse occasioni ha emesso provvedimenti di daspo urbano nei confronti di parcheggiatori abusivi questa mattina ha tenuto un incontro con il comandante della Polizia Municipale di Salerno Rosario Battipaia dell'assessore alla mobilità Rocco Galdi del presidente della società che gestisce i parcheggi in città Salerno Mobilità Camillo Amodio si annuncia un giro di vite per stanare il fenomeno annunciati maggiori controlli delle forze dell'ordine che in sinergia anche con il personale della società Salerno Mobilità attiveranno una serie di azioni per ripristinare la legalità nelle aree di sosta non è mancato un appello anche alla collaborazione dei cittadini a limitare le offerte ai parcheggiatori abusivi e a denunciare stamattina siamo stati ricevuti dal questore stiamo vedendo di trovare una serie di situazioni per cui i parcheggiatori abusivi questo fenomeno venga eliminato in città attualmente è presente in alcune zone particolarmente sensibili tra cui lo stadio Arechi, piazza Mendola, piazza San Francesco stiamo vedendo di individuare quelle situazioni per cui è possibile eliminare e limitare questo fenomeno spesso i cittadini sono vessati perché si ritrovano a pagare il ticket ma allo stesso tempo si ritrovano anche qualche persona che si avvicina e chiede un'offerta sì, purtroppo questo è il problema dal punto di vista legislativo ci sono delle carenze a riguardo il questore ha fatto un esempio c'è stata una signora che qui sotto ha dato fra virgolette un euro nobolo, è evidente che non aveva avuto nessuna pressione però in questi casi risulta difficile anzi l'invito da parte delle istituzioni nei confronti dei cittadini di limitare queste offerte che vengono fatte per eliminare del tutto il fenomeno dei parcheggiatori abusivi sicuramente in sinergia tra la questura, la polizia stradale e i nostri vigili urbani tenderemo di mettere quelle azioni per cui sul tutto il territorio comunale venga limitato il fenomeno cioè il controllo è stato presente anche il personale di Salerno Mobilità attraverso il presidente Camillo Modio per cui tutti in sinergia cercheremo di limitare quanto è più possibile questo fenomeno ma abbiamo l'esigenza che i cittadini qualora conoscono delle situazioni per cui vengono in qualche modo limitate la propria libertà di parcheggio vengono segnalate e denunciate Non è facile per il cittadino segnalare questo tipo di abusi probabilmente il cittadino si attende una maggiore presenza di forze di polizia affinché queste persone vengono allontanate con la repressione Il punto è proprio questo perché fondamentalmente il cittadino teme di esporre la denuncia ovviamente noi invitiamo a fare la denuncia sicuramente sarà tutelata la propria libertà da questo punto di vista senza far uscire i nomi di chi espone la denuncia stessa Potrebbero essere analizzate delle situazioni tipo Piazza Mendola piuttosto che lo stadio Arechi magari modificando il parcheggio esempio una barra con il ritiro del ticket in una maniera tale che in questo caso sicuramente sarebbe più facile allontanare questi personaggi Purtroppo abbiamo visto che neanche nelle aree automatizzate attualmente si sta verificando la presenza di parcheggiatori abusivi e di volta in volta il personale di Salerno Mobilità è costretto in qualche modo ad andare sul posto ed invitare a farli uscire Intanto c'è una serie di novità che sono state ribadite questa mattina dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli sulla concessione di regolamenti e che andranno a punire chi non è in regola con le tasse tutti i dettagli nell'intervista proprio al primo cittadino di Salerno Sindaco per i commercianti si potrebbe profilare un nuovo corso l'Aggiunta approva un regolamento dove si prevede di non rinnovare concessioni e licenze per coloro che sono morosi soprattutto per quanto riguarda Imo e le tasse in generale Le tasse purtroppo bisogna pagarle le dobbiamo pagare tutti e i commercianti devono pagarle come gli altri abbiamo fatto in modo anche che ci possano essere delle ipotesi di etatizzazione noi veniamo incontro naturalmente ai commercianti anche in una situazione complessa che la contingenza ci fa presente però bisogna che ciascuno si misuri anche con questi aspetti quindi non c'è nessuna ostilità nel riguardo del commercio che è una nostra chiave di svolta nella nostra città anzi c'è la possibilità di venire incontro però quanto è dovuto è dovuto e quindi mi auguro e credo che ci si metta in regola da parte di tutti L'idea di approvare questo regolamento fa pensare che la situazione nella città di Salerno da parte delle utenze commerciali profili un'amorosità abbastanza alta Insomma io credo che siamo nei limiti della tollerabilità e statisticamente non siamo particolarmente espossi però questo non vuol dire che non si debba fare un'azione di come dire di convincimento da parte dell'amministrazione verso tutti gli utenti a onorare quanto dovuto senza nessuna sensazione di oppressione ma offriamo la possibilità di una radizzazione però bisogna corrispondere all'erario quanto dovuto Torniamo nel comune di Salerno dove questa mattina si è svolta la commovente emozionante cerimonia di riconoscimento con l'attribuzione di una targa ad uno giovane atleta di arti marziali campione paralimpico di karate Vediamo Frequenta con buon profitto l'istituto nautico Giovanni XXIII a Salerno ma i risultati raggiunti nella pratica sportiva vanno anche ben oltre il salernitano Giorgio Matteo Puglia 16 anni affetto sin dalla nascita dalla sindrome di Williams ha trovato nello sport e in particolare nel karate un importante stimolo per superare le difficoltà ed ha già vinto la medaglia d'argento ai campionati nazionali di paracarate 2023-2024 e la medaglia d'oro al campionato regionale di Fijicam 2023 è il nuovo vice campione italiano di karate parolimpico affetto da disabilità e l'espressione più vera dell'inclusione e di quanto lo sport non conosca limiti il giovane atleta parolimpico salernitano Giorgio Matteo Puglia è specializzato nel kata ovvero una specialità di karate che consiste nel combattere contro un avversario immaginario e questa mattina ha ricevuto anche un importante riconoscimento dalla sua città natale il sindaco Vincenzo Napoli stamani infatti lo ha accolto a Palazzo di Città per attribuirgli alla presenza dei suoi genitori del presidente della commissione sport Rino Avella una targa con una dedica speciale Il coraggio cambia la vita Il campionato giovanile italiano ha fatto secondo posto a Roma poi sono stato convocato in Croazia per i sempre campionati mondiali italiani ci sto mettendo tanto impegno perché devo diventare forte se no non mi impegno non vado a fare le gare Giorgio quando gareggi quanto temi i tuoi avversari? Quando vedo gli avversari proprio quando li vedo mi impaurisco e vedo che sono più forti però quando si parla di una delle cose più o meno Poi sai che con l'allenamento si è sempre vittoriosi in ogni caso quanto ti alleni? Tanto? Sì, dal martedì al sabato 8, 9 e mezza, 15, 5 Mimmo Puglia, l'esperienza di Giorgio è sicuramente una grande conquista la testimonianza che lo sport è inclusione e che si possono superare tutte le disabilità Sì, lui in effetti nello sport ha trovato un ambiente sicuro ma contemporaneamente aperto all'inclusione abbiamo trovato una scuola di karate che lo ha accolto il maestro si è appassionato a Giorgio ha fatto anche dei corsi proprio per la sua disabilità e poi ha iniziato a farlo gareggiare il fatto di farlo gareggiare gli ha dato anche sicurezza l'ha stimolato a fare di più e ha superato alcuni problemi fisici che comunque fanno parte della sua disabilità quindi siamo soddisfatti, siamo contenti e anche il riconoscimento stamattina dell'amministrazione ci fa molto piacere e ci dà speranza anche ad altre persone altre famiglie che vivono la disabilità che tramite alcuni strumenti come lo sport si possono raggiungere dei risultati e avere anche dei benefici a livello psicofisico ci ritroviamo tra poco con lo sport restate con noi in collaborazione con De Filippis Pneumatici Centro Driver Pirelli vendita e assistenza pneumatici per auto, moto, scooter, trasporto leggero e agricoltura da 70 anni leader a Salerno ci trovate in via delle Calabrie 93 e in via Ricci 23 2000 metri quadri di servizi ad alta tecnologia equilibratura e convergenza laser assetto ruote con nuova tecnologia 3D basta scelta di cerchi in lega esclusivista a Salerno di tutti i marchi moto concessionario ufficiale Pirelli Mezzeller Bridgestone Firestone Cyberlink Dallop Goodyear Yokohama Michelin e tanti altri da noi troverete scelta cortesia e affidabilità De Filippis Pneumatici il passato il presente il futuro Previsioni per domani al mattino sulle coste cieli coperti con piogge e temporali in montagna nubi e schiarite con possibili piovaschi nel pomeriggio sulle coste nubi e schiarite con possibili piovaschi in montagna nubi e schiarite con possibili piovaschi Previsioni del tempo fornite da 3D Meteo In questa stagione la Salernitana ha vinto solo una gara in casa la Reiki però resta pur sempre amico dei tifosi che è nella top 10 della Serie A per i ricavi nell'anno solare 2023 Dietro alle sette sorelle da Lecce che ha adottato una politica dei prezzi volta ad incoraggiare l'affluenza massiccia dei tifosi allo stadio c'è la Salernitana non è purtroppo la classifica del campionato in corso bensì quella per i ricavi da stadio nell'anno solare 2023 Il report è stato curato da calcio e finanza La Salernitana da quando c'è stato il passaggio di consegne del trastia Danilo Iervolino ha sempre potuto contare su un notevole apporto del tifo amico sia come presenza sia per resa al botteghino Il dato del 2023 non sorprende più di tanto anzi è la conferma del fatto che nonostante la chiusura della curva nord ed una politica dei prezzi non sempre dalla parte della gente la Salernitana abbia sempre potuto contare sul fattore tifosi Biglietti venduti ed abbonamenti sottoscritti a prezzi non proprio di saldo nonostante le difficoltà legate a volte al meteo ed altre gli orari e giorni in cui le gare sono state disputate sono la riprova che il club ha sempre avuto i tifosi dalla sua parte 8,6 milioni di euro il dato dei ricavi da stadio di poco inferiore a quello del Lecce 8,8 ma superiore ad altri club come Udinese Atalanta Bologna quasi doppiati in questa classifica due club scudettati come Torino e Verona oltre alla Samp che poi retrocesse in Milano scorso insomma Salerno è sempre accanto alla salentiana tanto calore e tanto amore non sempre ricambiati dalle scelte del club e dei risultati della squadra possono avere come rovescio della medaglia la manifestazione in forma passionale anche di un certo dissenso gli eccessi se si tratta di violenza verbale offese o minacce vanno sempre condannati al tempo stesso i tifosi hanno il diritto di esprimere la loro insoddisfazione attraverso forme di contestazione diretta o via social secondo il costume dei tempi in maniera sana e corretta il club ha fatto sapere che si tutelera in sede legale contro gli eccessi ed è un suo diritto è però un dovere della salentiana prendere in considerazione le tante critiche civili e costruttive ricevute perché questa stagione assurda che ancora in teoria affrerebbe la possibilità di un riscatto è stata costellata da tanti errori è vero che il presidente Ervolino ha investito che c'è un saldo delle operazioni di mercato ancora in rosso che qualche episodio sfortunato c'è pure stato ma è pur vero che se si spende tanto i stipendi per il personale e si va di bene non solo per calciatori e allenatori se si portano avanti operazioni di mercato improbabili se ci si fida di procuratori tornati in auge dopo anni se si vada a una rivoluzione dirigenziale prima di Natale quando già si è cambiato anche un allenatore e senza essere risposti ad altri sacrifici sul mercato per rinforzare la rosa qualche critica ci sta il tifoso paga sostiene la squadra del Trebb anche quando acquista prodotti ufficiali e si aspetta impegno ad edizione sforzi finalizzati a farsi che la maglia venga onorata rispettata e non banalizzata e umiliata un tifoso addiritto che la sua squadra giochi con passione e che la maglia non diventi semplice pretesto per finalità commerciali di marketing ed altro ancora come accadde in occasione del derby interno con il Napoli quella maglia fu un qualcosa che poco centrava con la storia della serentana per carità è giusto che i proprietari o i dirigenti e i calciatori non vengano offesi ma è altrettanto giusto che i tifosi la serentana come storia e memoria collettiva la città di Salerno vengano parimenti rispettati prima della partita con l'Empoli i tifosi avevano teso la mano ma dalla squadra non c'è stata la risposta attesa nonostante tutto col Monza erano quasi in 20.000 sugli spalti va bene prendersela con i cattivi del web ma bisognerebbe anche chiedere scusa a chi ci mette soldi tempo e passione e torna a casa deluso e mortificato e vive in maniera privata in silenzio un senso di frustrazione che solo un tifoso può capire ci occupiamo ora di impiantistica sportiva nella città di Salerno il presidente della commissione sport del comune di Salerno Rino Avella ha fatto il punto questa mattina sulla situazione in modo particolare dei campi di calcio settembrino e dei gasperi oggetto da mesi di ristrutturazione mi fa piacere di questa domanda sono fatiscenti però l'amministrazione si è stata operando i primi due segnali importanti saranno proprio la ristrutturazione del De Gasperi e del Settembrino poi logicamente ci sono altri impianti che stanno in città come il Palatulimieri ma il nostro sogno resta e rimane il Vestuti io penso che gli impegni da parte del presidente della regione in varie azioni anche in varie conferenze stampe ha annunciato più volte questo impegno forte per la ristrutturazione del Vestuti che rimane per me la madre di tutte le battaglie logicamente poi per i lavori che proseguiranno per questo restring della Rechi l'amministrazione che è già stata allertata grazie al nostro impegno di commissione sport interamente tutta la commissione ha detto al signor sindaco di iniziare a prevedere una delocalizzazione se vogliamo parlare anche della piscina vitale anche lì è una struttura vecchia abbandonata da tempo che ha bisogno di un restring importante e anche là si spera sempre con fondi o PNR o diciamo la benevolenza regionale si possa anche lì capire il posto della viscina vitale vicino al mare sembra del tutto fuori luogo anche per il discorso dell'industruttura e tutto quello che insiste in merito alla difficoltà anche di sicurezza quindi si spera che l'amministrazione come ho detto da due anni a questa parte in qualità di presidente della commissione sport che deve essere l'anno dello sport quindi investimenti sicuri sul bilancio e soprattutto un impegno forte sia per le manutenzioni straordinarie che quelle ordinarie chiudiamo con una notizia di volley impegno in trasferta per la GLS Salerno Giscard cavolista del girone B del campionato di serie C di volley femminile la compagine cara al presidente Pino D'Andrea sabato pomeriggio con fischio d'inizio alle 18.30 sarà di scena ad Ottaviano per affrontare l'ASD Equalabers ed è tutto termina qui il nostro appuntamento con l'informazione grazie per essere stati con noi arrivederci vuoi rivedere questo proclama? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti